Ok ragazzi, nuovo video, nuovo allenamento, oggi alleniamo spalle e tricipiti, con un piccolo chiamo di bicipiti e quindi è l'ultimo allenamento proprio di tutte le rotazioni del mio log e da lunedì riparto con il terzo giro del mese ciclo Con testualizzazione, sto quasi per iniziare la preparazione quindi probabilmente quando vedrete questo video avrò iniziato ho già abbassato leggermente le calorie potete leggere tutto quanto sul mio log Adesso sto a 90 grammi di grassi, li ho alzati leggermente a 450 grammi di carboidrati, 500 in alcuni giorni sempre un cheat settimanale e a 250 e poco più grammi di proteine quindi più o meno poco meno di 3 grammi per chilo Il peso da 95 è sceso a 94 mi vedo meglio, mi vedo più granitico, mi sento anche meglio e in questo periodo la performance è pazzesca, sta salendo tantissimo sto continuando a battere il log e veramente sono molto contento di come sta andando da questo punto di vista Quindi, sessione, iniziamo con una super incline smith quindi ci sarà anche un coinvolgimento in generale dell'appertorso quindi del fascio claveare del petto e poi passiamo a lavori più specifici di isolamento quindi questo sarà l'unico compound della sessione il resto saranno lavori di pump, di stress metabolico sulle spalle e sui tricipiti quindi partiamo, inizio a scaldarmi l'ultima volta ho fatto 50 e 50 credo che manterrò lo stesso carico se lo sento abbastanza bene se no proverò a aumentarlo leggermente e cercherò di battere come al solito il log vediamo che cosa ne esce allora, prima di tutto vediamo come mettere gli elastici perché è una cosa che mi chiedete sempre quindi, a parte l'elastico di per sé, vi consiglio due acquisti uno, moschettone potete prendere qualsiasi moschettone andate nel regione